Usiamo il cuore, perché altrimenti se non lo usiamo si intimidisce, si rattrappisce e piano piano, certo, piano piano sparisce. Faccio l'entrata, eh? Ora voi dovreste fare un bel applauso in modo che io possa entrare bene, vai, vai, vai però, vai! E mi sono fatto 8.000 chilometri per arrivare! Eh, ai rei enti, accuditi, accuditi, forza, venite gente, accorrete che c'è un giullare, imbrighamenti che abbiamo bufoni, chi brinca, batta, li pazza, li dì, chi piglia baruguru, che questo l'ha capito, è vero? Che prende in giro i potenti e vi fa vedere come sono gonfiati i palloni che volano, planano su di noi e vanno in giro a fare guerre. E di Magnendi, si capisce Magnendi, no? Mangiando e noi, soffrendi, ve li faccio vedere, oi, ve li faccio osservare. E va bene da pizzacche, basta un po' di vento caldo che so' pronti a bruciare. Loro, i prepotenti, no? Si gonfiano, si gonfiano, si gonfiano, si gonfiano. Io gli... L'ha fatta la foto? Grazie. Si gonfiano, io gli tolgo il tappo e... Si sgonfiano. Aioi, andia, correte rapidi, orecchie tese, occhi acuti, perché è giunto il momento di farmi ragionare. Eia, mi voglio divertir e mi voglio confidare. Abba! 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 Abba!